e dunque il campionato primavera femminile va alla Roma il campionato primavera femminile 2019-2020 organizzato secondo me proprio alla Cazzo De Canis dopo che il campionato era stato fermato ad aprile, anzi a marzo per la questione Covid-19 si è deciso di giocare questa partita adesso in campo neutro che poi non è un campo neutro perché Tirreni è molto più vicina a Roma che a Torino la cosa più clamorosa è che si è deciso di giocare adesso dopo che la Juve aveva smembrato la squadra con cui l'anno scorso aveva vinto l'Aviareggio Cup e aveva praticamente vinto il girone di campionato facendo giocare oggi praticamente la nuova primavera della Juve e vi dirò di più, la Roma vince ma io sono contento della prova della Juve perché la Roma era la stessa squadra dell'anno scorso nonostante questo io credo che nel secondo tempo non ci sia stata partita la Juve non ha sfruttato le occasioni che andavano sfruttate ed è riuscita comunque a giocare una buonissima gara vince la Roma ma ripeto questa partita secondo me se si ripeterà quest'anno in un eventuale finale il campionato primavera 20-21 secondo me la Juve dirà la sua e potrà portare a casa il tricolore resta stregato questo campionato primavera è la terza volta che la Juve perde tra semifinale e finale in tre anni quest'anno però oggettivamente o meglio l'anno scorso per come è andata la stagione io non credo che si potesse pensare di più perché ripeto le migliori la Juve le ha date in prestito per farle crescere la Roma è la squadra dell'anno scorso pazienza la Roma vince 2-1 ripeto io mi aspettavo una rullata molto maggiore proprio per questo motivo però sono veramente contento del risultato delle ragazze cioè perlomeno sono contento della prestazione il risultato ovviamente lascia l'amaro in bocca Roma campione d'Italia primavera 2019-2020 e per la Juve da domani la primavera femminile tornerà per prepararsi al campionato 2020-2021 ciao a tutti ragazzi al prossimo video